Buongiorno a tutti ragazzi. Oggi parliamo di funzioni continue di una variabile reale. Allora, vediamo la definizione di continuità. Data una funzione reale di una variabile reale, si dice che f, la funzione, è continua in x con 0, quindi in un punto del dominio, se per ogni successione x con n con n appartenente ai numeri naturali, ed è una successione che è inclusa nel dominio della funzione, con x con n tendente a x con 0, segue che f di x con n tende a f di x con 0 per n che tende a più infinito. In generale, una funzione si dice continua se è continua in ogni punto del dominio. In realtà, questa definizione può essere riscritta anche non facendo riferimento alle successioni, che magari può risultare un pochino più semplice. Infatti, se x con 0 è un appartenente al dominio, è un punto di accumulazione di x, allora f è continua in x con 0, se e solo se il limite per x che tende a x con 0 di f di x è uguale a f di x con 0. Mentre se x con 0 non è un punto di accumulazione di x, allora f è sempre continua in x con 0. In realtà, poi nella pratica andremo a vedere che, per vedere se una funzione è continua in un punto, basterà semplicemente vedere se il limite da sinistra e da destra in quel punto è lo stesso. Allora, ricordiamoci una cosa, che quando consideriamo due funzioni continue in un punto, in generale continue, allora anche la somma delle due funzioni è continua, anche il prodotto delle due funzioni è continuo e anche, diciamo, la funzione che è il rapporto delle due funzioni risulta essere continua, dove chiaramente, diciamo, la funzione al denominatore deve essere diversa da 0. Ma anche il modulo di una funzione è continuo. Quindi, possiamo dedurre che la somma, la differenza, il prodotto, il rapporto e il modulo di funzioni continue sono anch'esse funzioni continue. Allora, vediamo alcune funzioni continue. La composizione di funzioni continue è sempre continua. Ogni funzione razionale è continua, quindi la composizione di funzioni, vi ricordate, è una funzione che ha come dominio il dominio della prima funzione e come codominio il codominio della seconda funzione e quando queste due funzioni sono continue, allora anche la loro composizione è continua. Ogni funzione razionale, ovvero il prodotto di due polinomi, è continua. Le funzioni circolari, il seno, il coseno e la tangente, sono funzioni continue e anche la funzione esponenziale è continua. Adesso vediamo un po' di teoria sulle funzioni continue su intervalli. Allora, il teorema degli zeri è importantissimo e che cosa dice? Dice che se una funzione ha come dominio un intervallo chiuso, che va da a a b, è come dominio, chiaramente, l'insieme dei numeri reali, ed è continua. Questa funzione è continua ed è tale che, diciamo, la funzione calcolata nell'estremo a e la funzione calcolata nell'estremo b abbiano segno opposto, ovvero f di a per f di b è minore di zero. Allora, esiste sicuramente un punto in c appartenente all'intervallo aperto da a b, tale che la funzione calcolata in c è uguale a zero. Questo si può, diciamo, dedurre proprio graficamente. Vediamo questa funzione e andiamo a considerarla nell'intervallo chiuso a b, ok? Vediamo che f di a è un numero reale positivo, f di b è un numero reale negativo, quindi il loro prodotto, il rapporto tra f di a e f di b è minore di zero. Vediamo che in questo caso esiste per forza necessariamente un punto c appartenente all'intervallo aperto a b, in cui la funzione risulta essere uguale a zero. Un altro teorema importantissimo, quello dei valori intermedi, che dice che se i è un numero, diciamo, è un insieme, un sottoinsieme dei numeri reali ed è un intervallo qualsiasi, che non sia necessariamente chiuso, Allora, una funzione che va da i ad r, continua, considerando m l'estremo inferiore della funzione e m maiuscolo l'estremo superiore della funzione, allora questo teorema ci dice che per ogni y tra m ed m, ok? Quindi ogni y appartenente all'insieme m minuscolo e m maiuscolo, esiste sicuramente un punto x appartenente al dominio, tale per cui f di x è uguale a y. Che cosa significa? Che se una funzione è continua in un intervallo, ha un estremo inferiore, ha un estremo superiore, esiste per forza, per ogni punto che va, diciamo, dall'estremo inferiore all'estremo superiore, un punto x appartenente al dominio, tale per cui la funzione calcolata in x è uguale ad y. Quindi la funzione assume tutti i punti compresi tra l'estremo inferiore e l'estremo superiore. Allora, quest'altro teorema invece ci dice che se i è un sottoinsieme dei numeri reali ed è un intervallo e una funzione è continua nell'intervallo, allora anche l'insieme j dato da, diciamo, f di i, ovvero, diciamo, l'immagine di i che comprende tutti i punti f di x con x appartenente all'intervallo i, è un intervallo e in particolare una funzione che va da i a j è invertibile se solo se f è strettamente crescente oppure strettamente decrescente. Inoltre, se f è invertibile, la funzione inversa di f avrà come dominio d'insieme j e come codominio d'insieme i e questa funzione inversa sarà continua. Questo teorema non vale se il dominio di f non è un intervallo, ok? Quindi è un teorema che può essere applicato solo su funzioni continue su intervalli. Allora, vediamo adesso uno dei teoremi più importanti, che è il teorema di Weierstrass. Allora, il teorema di Weierstrass ci dice che se una funzione è continua in un certo intervallo chiuso a b, allora esistono sicuramente un minimo e un massimo di una funzione in quell'intervallo. Inoltre, l'immagine della funzione, quindi f di a b, tale per cui questa immagine contiene tutti i punti f di x, tali che x appartenga al dominio della funzione, allora questo insieme di punti, quindi l'immagine, coincide esattamente con tutti i punti y, compresi tra il minimo e il massimo della funzione. Chiaramente, se la funzione ha un minimo e ha un massimo, è ovviamente limitata. Inoltre, Weierstrass deduce che se esistono sicuramente due punti x con 0 e x con 1 appartenenti all'intervallo chiuso a b, tale per cui la funzione f di x è compresa tra f di x con 0 e f di x con 1 per ogni x appartenente all'intervallo a b. Inoltre, possiamo affermare che per ogni y appartenente all'immagine della funzione, quindi appartenente all'intervallo chiuso tra m minimo della funzione e m maiuscolo massimo della funzione, esiste un x appartenente ad a b, tale che f di x è uguale a y. Perché? Perché la funzione è continua in quell'intervallo. Quindi, se è continua in quell'intervallo, per tutti i punti dell'immagine della funzione, esisterà un x, un punto x appartenente all'intervallo stesso, tale per cui la funzione calcolata in x è uguale a y. Significa che la funzione passa per tutti i punti tra m e m maiuscolo. Anche in questo caso, questo teorema vale solo su intervalli chiusi e limitati. Questa lezione, ragazzi, finisce qui. Ci vediamo alla prossima, dove parleremo del calcolo differenziale di funzioni di una variabile reale. Grazie a tutti.